Oggi trovo in stato di instabilità ogni registro linguistico a cui ricorro. Ma perché dico io far parlare la poesia? Non sarebbe meglio un solido silenzio? Eppure questo saltuario modo di comunicare meriterebbe almeno una rapida escursione. Eppure andrebbe seguito proprio perché sconvolto e sempre più inafferrabile nei suoi avvolgimenti, in quelle non dichiarate fandonie o false immagini, girandole verbali in rilascio, presunte poetiche, certo tutto ciò per scoprire se l'incanto è davvero. Ma la tragica follia a chi dell'universo interessa?